Guardate, 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 che bontà. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi cioccolatini facili facili con wafer e arachidi, veramente golosi. Allora, partiamo subito con la nostra ricettina che è semplice, semplice, con solo quattro ingredienti e abbiamo dei buonissimi cioccolatini. Inseriamo in un frullatura 200 grammi di arachidi. A questo punto andiamo a prendere un pacco di 175 grammi, sono all'incirca, di wafer al cacao e li andiamo a spezzettare e li andiamo a inserire dentro. A questo punto non ci rimane che andarli a frullare. Una volta che abbiamo frullato il tutto, adesso non ci rimane che andare ad amalgamare il tutto due bei cucchiaioni di nutella. Guardate che bontà, sono veramente buonissimi e facilissimi da fare, dovete sporcare solamente un accessorio. Adesso andiamo ad amalgamare il tutto con la nostra nutella. Fatto questo adesso andiamo a prelevare dei pezzetti d'impasto e andiamo a dargli una forma. La forma la potete decidere anche voi, io li sto facendo per lungo. E li andiamo a depositare sul foglio di carta da forno. Una volta che abbiamo dato a forma i nostri cioccolatini, adesso li facciamo riposare in frigo e nello stesso momento andiamo a preparare a bagno in maria 200 grammi di cioccolato fondente. Una volta che abbiamo sciolto il cioccolato fondente, lo andiamo ad inserire in una coppettina. Inserita in coppettina, adesso prendiamo 50 grammi di arachidi e li andiamo a tritare, non a farina, leggermente a tritare. Una volta che li abbiamo tritati, li andiamo a inserire nel nostro cioccolato fondente e ci diamo una giratina. Ebbene, una volta che abbiamo amalgamato i nostri arachidi, prendiamo i nostri biscottini che avevamo depositato in frigo e li andiamo a inserire e li andiamo ad avvolgere con il nostro cioccolato fondente. Ebbene, una volta che li abbiamo fatti riposare una mezz'ora in frigo, i nostri cioccolatini, waffer e arachidi sono già pronti. Guardate un po' che spettacolo. Guardate, 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 che bontà. Sono proprio ottimi, veloci da fare e buoni da mangiare. Detto questo non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!